Giovedì della prima settimana del tempo ordinario, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva, «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse, «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebra scomparve da lui ed egli fu purificato, e, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse, «Guarda di non dire a nessuno. Va, invece, a mostrarti al sacerdote, e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte». Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Allora venne a lui un lebroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva, «Se vuoi, puoi guarirmi. Le preghiere migliori sono quelle che nascono dal cuore e vanno al dunque». E' forse questo il motivo per cui, nella storia degli ultimi secoli, i cristiani hanno sempre scoperto e valorizzato le giaculatorie. Esse altro non sono che preghiere brevi, ripetute, semplici, chiare, essenziali, esattamente come la giaculatoria dell'ebroso del Vangelo di oggi. Sarebbe bello se ognuno di noi scoprisse la propria giaculatoria, cioè scoprisse quella preghiera che ha il potere, nella sua brevità, di dire ciò che veramente ci sta a cuore. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse, «Lo voglio, guarisci». Subito la lebra scomparve ed egli guarì. Sembra che Gesù non possa resistere davanti a tanta sincerità e fiducia, ma la cosa davvero strana è che la reazione dell'ebroso è di totale disobbedienza nei confronti di Gesù che lo ha guarito. E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse, «Guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a Lui da ogni parte. È bello poter pensare che la vera evangelizzazione è l'impossibilità a poter tenere per sé la gioia che il Signore ci ha procurato nella vita. E anche se fosse Gesù stesso a chiederci di non dirlo, sarebbe per noi impossibile obbedirli. Tutto ciò capavolge l'idea di annuncio stesso. Esso non nasce, infatti, dalla pianificazione di una campagna pubblicitaria, ma da un irresistibile bisogno di raccontare a tutti quello che il Signore ha fatto dentro la nostra vita. E questo tipo di annuncio è così efficace che il seguito stesso di Gesù cresce a tal punto che per Lui non c'è più possibilità di stare in un luogo chiuso.